Cari amiche e cari amici, come abbiamo visto l'autore della Nube ha già sottolineato e più volte sottolineerà l'importanza dell'apertura del cuore di un diverso modo di conoscere che è molto lontano dalla conoscenza intellettuale, dalla conoscenza razionale, proprio perché ogni via contemplativa, quella proposta dai maggiori mistici nell'ambito della tradizione cattolica, ha in comune questa caratteristica. La percezione metafisica e la conoscenza di Dio non avviene attraverso il ragionamento, ma avviene attraverso il silenzio. E andiamo avanti con la lettura della Nube. Durante la contemplazione tutte le creature che ci sono state, ci sono e ci saranno, vanno ricacciate sotto la Nube d'Oblio. E se mai tu dovessi giungere in questa Nube e restarvi a lavorare seguendo il mio consiglio, allora, come questa Nube della non conoscenza è al di sopra di te, tra te e il tuo Dio, allo stesso modo devi mettere al di sotto di te una Nube d'Oblio tra te e tutte le creature. Ora, chiarisce questo concetto. Forse vai pensando di essere troppo lontano da Dio per via di questa Nube della non conoscenza tra te e il tuo Dio. In realtà, è più giusto pensare che sei più lontano da Lui quando non c'è nessuna Nube d'Oblio tra te e tutte le creature. Ogni volta che dico tutte le creature, mi riferisco non solo alle singole creature in se stesse, ma anche a tutte le loro opere e alle loro caratteristiche. E qui ve lo spiego perché può essere un po' difficile per chi non abbia direttamente questa esperienza. Allora, parla di due nubi. Quindi, una Nube che non ci fa percepire Dio direttamente, quindi è la Nube che sta tra noi e Dio. Un'altra Nube che è quella che sta tra noi e le creature, e quindi tra noi e la nostra percezione del mondo, degli altri. e scrive, forse vai pensando ad essere troppo lontano da Dio per via di questa Nube della non conoscenza tra te e Dio. Va bene? Poi continua, in realtà è più giusto pensare che sei più lontano da Dio quando non c'è nessuna Nube d'Oblio tra te e tutte le creature. Quindi che vuol dire? Che quando tu sei identificato con il mondo, sei identificato con la percezione della materia, quindi non c'è nessuna Nube tra te e tutte le creature, quindi tra te e il mondo esterno, e quindi la tua percezione è nitida perché non c'è alcuna Nube tra te e il mondo esterno, e allora tu scambi per reale quel mondo. E in realtà un mondo senza Dio è illusorio, perché lui ti dice che più non c'è Nube tra te e le creature, meno è di Dio, in altre parole. Vado avanti. Allora, ogni volta che dico tutte le creature, mi riferisco non solo alle singole creature in sé stesse, ma anche a tutte le loro opere e le loro caratteristiche. Non faccio eccezione per nessuna creatura, sia materiale che spirituale, e per nessuna caratteristica o opera di qualsivoglia creatura, sia essa buona o cattiva. Insomma, ogni cosa va tenuta nascosta sotto questa Nube d'Oblio, perché tutto ciò a cui pensi, per tutto il tempo che ci pensi, se ne sta al di sopra di te, tra te e il tuo Dio. E se è ancora più lontano dal Dio, se una cosa qualsiasi diversa da Dio occupa il tuo spirito. Qui, ripeto, a proposito di Nube, è un po' nebuloso, un po' misterioso, però, ripeto, per chi ha l'esperienza è tutto molto chiaro. Quindi, riprende il concetto che vi ho appena spiegato, e dice che quando la Nube sta sopra di te, tra te e il tuo Dio, è offuscata la visione di Dio, e la tua percezione del mondo, che ti sembrerà sempre più reale, un mondo senza Dio, è come se si impossessasse di te. Perché dice che sei ancora più lontano da Dio, se una cosa qualsiasi diversa da Dio occupa il tuo spirito. Quindi, il tuo spirito non è occupato da Dio, dal nome di Gesù, ma è occupato dai problemi del mondo esterno. Continuo. Sì, se è possibile dirlo senza scusate, senza essere riverenti, in questo lavoro non serve a niente pensare alla bontà, alla perfezione di Dio, alla Madonna, ai Santi, agli angeli in cielo, o ancora alle gioie celesti. Ti sbagli se pensi di poter nutrire e crescere il tuo proposito con simili considerazioni. Credo proprio che in questo caso non ti saranno di alcun aiuto. Anche se è bene meditare sulla bontà di Dio, amarlo e glorificarlo per questo, tuttavia è molto meglio pensare al suo essere puro e semplice, amarlo e glorificarlo per se stesso. Qui ripete un concetto che, vedete, alcuni concetti come l'amore, questo fatto delle immagini, sono ripetuti più e più volte a sottolinearne proprio l'importanza, che sono, come vi ho detto, e lo ripeterò, i concetti che troviamo anche negli altri mistici, espressi a parole diverse. È chiaro che se lui parla di una nube, prenderà come simbolo di riferimento la nube. Cioè Santa Teresa prende il castello, prende come riferimento il castello. Maester Eckhart, il fondo dell'anima, e San Giovanni della Croce, il Monte Carmelo. Allora, qui dice, pensare alla bontà, alla perfezione, a Dio, alla Madonna, ai Santi, agli angeli, all'oggio di celeste, dice, non ti serva niente, non ti sarà d'aiuto. Devi meditare solo sulla bontà di Dio. Quindi, se tu hai la mente fissa in Dio, se tu ripeti il nome sacro, un solo nome, poi vedremo questo argomento, come lo approfondirà, e il resto è tutto affidato a Dio. Quindi è inutile che pensi alla bontà, alla perfezione di Dio, che ti dai alle parole, a una preghiera verbale, tutto questo, per la contemplazione, è inutile, perché l'unica cosa, dice, è amare e glorificare Dio, senza immagini, senza la tua volontà che si intromette chiedendo delle cose, anche se possono sembrare cose attinenti, qui dice Chiarettondo. in questo lavoro non ti serve niente pensare alla bontà, alla perfezione di Dio, alla Madonna, ai Santi, agli Angeli in cielo, o anche alle gioie celesti. Quindi, dice, qualsiasi cosa ti può anche sembrare bellissimo, che stai facendo un atto spirituale degno di un santo, e così, dice no, è un inganno. Perché per la via contemplativa non ci sono immagini, tutto questo deve essere dimenticato. Vado avanti, ma ora mi interrogo e dici, come faccio a pensare a Dio in se stesso? Cos'è Dio? In verità, posso risponderti a questo modo? Non ne so niente. Ah, bellissima risposta. Bellissima risposta. E questa è la tipica risposta del mistico. Il nulla di San Giovanni della Croce. Guardate, io prendo a riferimento questi cinque, sei mistici cristiani, ma tutti i mistici parlano di questo. Tutti i contemplativi parlano di questo. Questo è importante sapere. Quindi, questa è fantastica. è proprio una risposta che il non contemplativo non può capire, invece il contemplativo comprende che chi ha scritto questo ha la diretta esperienza di Dio. E adesso è una conoscenza mentale. Ripeto, dice ora mi interrogo e dici, come faccio a pensare a Dio in se stesso? Che cos'è Dio? In verità, non posso risponderti che a questo modo non ne so niente. È fantastico, perché se tu elimini tutte le immagini, tutti i pensieri, anche i più santi, che cosa rimane? Rimane l'esperienza di Dio, però che è talmente misteriosa, che nonostante si riveli e si disvegli, resta misteriosa. e quindi non ne so niente. Pensate, se ponete la stessa domanda a un teologo, a un maestro della legge, che cos'è Dio? E vi comincerà a parlare, potrebbe parlare per ore un teologo sul cos'è Dio. Dice che cos'è Dio, chi è, come si è manifestato, cosa vuole da noi, citerà i comandamenti, citerà le frasi in latino, in greco, in aramaico, le sfumature, potrebbe parlare giornate intere, perché ha studiato, approfondito questo aspetto esclusivamente irrazionale. La risposta del mistico è una sola. Non ne so niente. Avrebbe anche potuto rispondere con il silenzio, semplicemente. E non è detto che se a voce lo abbia fatto con qualcuno. Però è ovvio che scrivendo deve rispondere qualcosa. Ed è bellissima. È la massima risposta che può dare un mistico. Non ne so niente. Continuo. Con questa domanda tu mi hai proprio buttato in quella stessa oscurità e in quella stessa nube della non conoscenza in cui vorrei che ti trovassi tu. Infatti, di tutte le creature e le loro opere, un uomo può benissimo avere una piena conoscenza per mezzo della grazia su esse e fare delle meditazioni. Ma su Dio, com'è in sé, nessuno può fare delle meditazioni. Perché Dio lo si può amare, ma non pensare. Ecco la chiave. Solo con l'amore lo si può afferrare e trattenere, non certo con il pensiero. Capite? È la conferma di quello che vi stavo dicendo. Ed è bellissima questa frase. Queste frasi, isolate, sono già comprate in sé stesse. Tutta la nube. Come il Vangelo potrebbe interamente essere riassunto con la frase ama il prossimo tuo come te stesso. Qui ci sono quattro, cinque frasi dove potrebbero riassumere tutto il manuale di meditazione che ci ha lasciato questo straordinario monaco. E una di queste è proprio questa. L'amore lo si può afferrare e trattenere non certo con il pensiero. Scusate, rileggo per intero. Perché Dio lo si può amare, ma non pensare. solo con l'amore lo si può afferrare e trattenere non certo con il pensiero. Ribadisce che la fase intellettiva non perché l'intelletto è utilizzato anche come intuizione non quello va benissimo. La fase diciamo intellettuale, razionale del pensiero per la conoscenza di Dio non serve a niente. È un'illusione pensare che il teologo o il maestro della legge conosca Dio meglio di un pastorello che non è analfabeta. È un'illusione. Conosce la sfera del pensiero, la sfera razionale. Ma se quel pastorello che magari è isolato dal mondo perché pascola tutte le pecore tutto il giorno e ha la mente rivolta a Dio tutto il giorno quel pastorello avrà la conoscenza di Dio molto più che non un maestro della legge, un teologo. Perché? E ce lo dice lui. Perché Dio lo si può amare ma non pensare. Quindi è attraverso quest'amore che si apre la dimensione intuitiva dell'intelletto inteso come luogo dell'intuizione e quindi della conoscenza di Dio attraverso proprio la scienza infusa. anche e mai con il pensiero e continua perciò anche se è bene talvolta pensare in particolare alla bontà e alla perfezione di Dio tu devi camminarvi sopra sotto la spinta di un devoto e gioioso slancio dell'amore nell'intento di perforare quell'oscurità che ti sovrasta. Colpisci dunque questa fitta nube della non conoscenza con la freccia cuminata del desiderio d'amore e non muoverti di lì qualunque cosa capiti. Mamma mia che linguaggio potente. Qui dice qualche volta puoi anche pensare alla perfezione di Dio ma pure gli altri mistici dicono non è che c'è niente di male a dire delle preghiere verbali ad esempio no? Dice però il contemplativo lui usa camminarvi sopra dice anche se è bene dal volta pensare in particolare alla bontà e alla perfezione di Dio tu devi camminarvi sopra sotto la spinta di un devoto e gioioso slancio d'amore e gli mette in contrapposizione sempre questa sfera mentale immaginativa da dove scaturiscono anche le preghiere quando c'è qualsiasi preghiera verbale si rivolge alla mente e quindi l'immaginazione a Dio e lui dice non è male questo però tu contemplativo devi superare questo devi oltrepassare la nube della non conoscenza che è fatta anche di immaginazione e pensiero come? e lui dice con la freccia combinata del desiderio d'amore non muoverti di lì qualunque cosa capiti tu stai fermo immobile la tua mente è nel silenzio i tuoi occhi sono chiusi per essere più raccolto in te stesso e se accadono pensieri disturbanti anche pensieri che possono essere belli santi ha parlato prima di nel video precedente ha parlato anche di angeli di mondi angelici dice anche se questo tipo di pensieri non va bene non va bene devi dare spazio a questa apertura del cuore ecco perché ci sono queste immagini del cuore immacolato di Gesù il cuore immacolato di Maria che ci offrono il loro cuore nell'immagine Gesù apre il petto e mostra un cuore di carne simbolicamente ci sta dicendo questo conoscetemi attraverso il cuore questo sta dicendo questa è l'interpretazione del del mistico continuo se per caso sorge di te qualche pensiero non esitare a calpestarlo con uno slancio d'amore anche se può sembrarti un pensiero santo intesa ad aiutarti nella tua ricerca di Dio vedete l'ho appena spiegato perché senza nemmeno rendertene conto ecco ti ricacciato chissà dove nella dispersione quale ne è la causa il semplice fatto che dapprima hai prestato accolto di buon grado a quel pensiero poi gli hai risposto l'hai accettato e infine l'hai lasciato fare allora che succede qua sta parlando delle catene di pensieri che sono il disturbo il vero rumore di cui vi ho già parlato il vero rumore vi dicevo non è mai esterno quando ho fatto un esempio che potreste anche meditare in uno stadio in una curva dove i tifosi urlano è proprio per far capire bene che il vero disturbo interno quindi c'è attenzione perché se arriva un pensiero anche un pensiero santo un pensiero di carità un pensiero magari pensati all'angelo custode dice no questo pensiero si concatenano altri pensieri si uniscono a quel pensiero altri pensieri e questo pensiero diventa una narrazione prende sempre più corpo ecco perché dice qual è la causa dice senza meno renderti conto se segui un pensiero ti sei ricacciato nella dispersione qual è la causa il fatto che prestai ascolto a quel pensiero gli hai risposto l'hai accettato e l'hai lasciato fare cosa significano queste parole che sono momenti chiavi prima presti ascolto al pensiero quindi pensi a un santo e tu accetti questo perché dici ah che bello sto pensando a santo aiutami santo qualsiasi santo e così e tu quindi accogli quel pensiero in quel momento in cui dici al santo aiutami a pericare poi gli hai risposta ecco l'hai risposta prima arriva il pensiero che invade la tua coscienza San Giuseppe ne dico uno a caso tu gli e rispondi a quel pensiero ah San Giuseppe aiutami tu nella tua infinita bontà in questo modo lo accetti e lasci fare fai la narrazione e quindi ecco spero che San Giuseppe possa aiutarmi in questa occasione e così via rileggo il brano perché questo è un punto chiave se per caso sorgi dentro di te qualche pensiero non esitare a calpestarlo con lo slancio d'amore anche se può sembrarti il pensiero santo inteso aiutarti nella tua ricerca di Dio perché senza nemmeno rendertene conto ecco ti ricacciato chissà dove nella dispersione qual è la causa il semplice fatto che hai prestato ascolto di buon grado a quel pensiero gli hai risposto l'hai accettato e infine l'hai lasciato fare continuo ciò nonostante quel pensiero era buono santo tuttavia quando uno ha fatto queste meditazioni per molto tempo deve ricacciarlo lontano sotto la nubile dell'oblio perciò quando senti che Dio ti chiama per sua grazia a questo lavoro e che tu sei pronta a rispondervi innalza il tuo cuore verso di Lui con un umile slancio d'amore una pura intenzione diretta a Dio e a Lui solo e questo è più che sufficiente se vuoi ripiegare e avvolgere questa intenzione in una sola parola così da tenerla più saldamente prendi una parola corta meglio se di una sola sillaba più è corta più si intona l'opera dello spirito una tale parola può essere Dio o ancora amore scegli una di queste due o altra di tuo aggradimento purché sia una sola sillaba questa parola legala stretta al cuore così che non se ne stacchi più qualunque cosa accada questo è importantissimo in questa preghiera oltretutto anche la meditazione che io insegno ai miei allievi e in questa preghiera siccome vanno eliminate qualsiasi tipo di immagine qualsiasi tipo di pensiero per aprirsi alla grazia nel silenzio e siccome l'autore della nube sa che questo è difficilissimo infatti richiede anni da subito si comincia a meditare su una sola parola comunque potrete ritrovare dei riferimenti sulla tecnica della pratica di questo nella mia playlist sul nome sacro cioè sulla la preghiera del cuore e qui dice scegliete una parola qual è la parola che per te che mi stai ascoltando rappresenta di più Dio è Dio e allora scegli la parola Dio è amore allora scegli la parola amore è Gesù allora scegli la parola Gesù e lui ti dice una parola deve essere una sillaba perché se no rischi che si ripetano riprendono le catene di pensieri allora quando arriva prima avevo fatto l'esempio San Giuseppe aiutami tu e la tua parola che hai scelto che rappresenta più di tutti è mettiamo amore tu in quel momento ripeti amore e cerchi di arrestare ecco come si cacciano le catene di pensieri cerchi di arrestare dici amore e ritorni al silenzio se la mente torna alla carica anche con pensieri santi Gesù aiuta mio nipote a fare l'esame ho fatto l'esempio in un altro video nuovamente amore ripetere la parola e ritornare al silenzio una sola parola deve essere ci dice l'autore e continua questa parola sarà il tuo scudo e la tua lancia sia in pace che in guerra con questa parola picchierai sulla nube e sull'oscurità che ti sorrasta con questa parola sopprimerai ogni pensiero sotto la nube dell'obbio a tal punto che se qualche pensiero ti metterà sotto pressione chiedendoti cosa mai stai cercando non gli risponderai se non con questa parola semplice esattamente quello che vi ho detto se cercate il silenzio e il disturbo sono queste catene di pensieri solo eliminando queste catene di pensieri sarete nella giusta apertura per percepire la grazia e come si fa però a eliminare queste catene di pensieri attraverso questa che è una precisa tecnica che ci sta dando ma anche Santa Teresa e San Giovanni ci danno delle tecniche precise la sua tecnica è la ripetizione del nome sacro un nome un nome dovete scegliere per tutta la vita resterà quello nella vostra esperienza di contemplazione perché non devono esistere il pensiero discorsivo non deve esistere questo quel nome come si dice probabilmente una spina caccia un'altra spina è la cosa migliore per cacciare un'altra spina ecco questo nome è la cosa migliore per penetrare la nube della non conoscenza e aprirvi alla grazia del divino continuo e se si farà avanti con la sua scienza per spiegarti il significato di quella stessa parola ed esporne le varie proprietà gli dirai che vuoi conservarla intatta nella sua interezza e non intendi ridurla in briciole questa parola cari amiche e cari amici va custodita non va mai pronunciata deve restare nel segreto del vostro cuore ad esempio se la parola è Gesù nel linguaggio ordinario per quanto potete dovete trovare un sinonimo invece di dire Gesù dite il Signore ma se siete costretti non lo so da una lettura in chiesa a dire Gesù allora in quel momento dovete sapere che state pronunciando la vostra parola sacra il vostro punto di incontro con il Divino quindi dovete fare molta attenzione questo è il significato del non nominare il nome di Dio in vano all'interno della nube della non conoscenza poi può significare anche non nominare il nome di Dio in vano non parlare futilmente di Dio non bestemmiare ovviamente ma l'interpretazione del missio è un'interpretazione sempre introspettiva quindi non bisogna nominarlo al nome di Dio e se arriva il teologo di turno che te lo vuole spiegare ti dice no io voglio conservarla questa parola intatta non voglio elaborarci sopra chiedere spiegazioni significati o cose del genere ve lo rileggo e arrivo a conclusione di capitolo e se si far avanti con la sua scienza intende conoscenza qui e se si far avanti con la sua scienza per spiegarti il significato di quella parola e disporre le varie proprietà gli dirai che vuoi conservarla intatta nella sua interezza non intendi ridurla in briciole se ti resterrai ben saldo in questo proposito ti assicuro che quel pensiero se ne andrà immediatamente e perché? perché tu non gli avrai dato modo di nutrirsi di quelle dolci meditazioni di cui ho parlato prima quindi sia esteriormente l'esempio che vi ho appena fatto di conservarla di non nominare i nomi di invano e soprattutto interiormente perché il contemplativo dà sempre una chiave introspettiva quella parola se poi la tua mente attraverso le immagini vuole costruire delle immagini su quella parola ad esempio la parola è Gesù e la vostra mente comincia a costruire un episodio non solo la moltiplicazione del pane e dei pesci attraverso catene di pensieri una narrazione niente anche lì rifiutare le immagini ancorarsi al nome di Gesù 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 perché? perché quelle immagini sono sempre prodotte del tuo inconscio della tua conoscenza della tua mente che è irrilevante perché tu sei irrilevante devi dare spazio a Dio e basta allora se il nome sacro che ha scelto Gesù in quel momento è il momento di pronunciare Gesù e rendere in briciole quei pensieri narrativi e tutelare il tuo nome sacro bene cari amici che Dio vi benedica un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo